Ma uno dei rimedi, se proprio volete fare il sexting con il vostro fidanzato o il vostro amico o uno sconosciuto, uno dei rimedi è mettere chiaro, nero su bianco e possibilmente beccarsi anche la ricevuta di ritorno, questa roba resta tra di noi. Non ti permetto di diffonderla, non ti permetto di darla o di farla vedere a nessuno, questa è roba nostra. Perché? Perché in questo modo tu hai manifestato il dissenso alla pubblicazione, tu stai negando ogni autorizzazione diversa da quella del ce lo teniamo tra di noi, ce lo guardiamo quando tu sei in vacanza piuttosto che in trasferta. Questo è molto importante, è molto importante ed è importante a qualunque età.